Le infezioni delle vie urinarie interessano l'uomo tendenzialmente in età avanzata perché abbracciano la sfera della patologia prostatica, mentre per la donna interessa tutte le fasce di età. In generale le infezioni delle vie urinarie si verificano a causa di ostruzioni, ma si parla soprattutto di due grandi temi all'interno delle patologie legate alle infezioni delle vie urinarie. L'anziano per quanto riguarda l'uomo e poi le infezioni ospedaliere da cateterismo. L'anziano ha spesso bisogno di risolvere il problema ostruttivo dell'apparato urinario provocato dall'ipertrofia prostatica con un cateterismo e quando questo cateterismo perdura nel tempo inevitabilmente si forma un'infezione nell'apparato urinario. Questo succede ancora di più in ambito ospedaliero. In ambito ospedaliero infatti soprattutto nei reparti di lungo degenza il cateterismo vescicale è quasi la norma. Si tratta di cateterismi di lunga durata. Già dopo una settimana noi sappiamo che il 40% delle persone che portano un catetere in vescica sviluppano una infezione anche se spesso è asintomatica. Se questo cateterismo dura oltre il mese, la probabilità che ci sia un'infezione è del 100%. Questo cateterismo può poi a sua volta dare solo quella che noi chiamiamo una batteriuria, cioè la presenza di batteri senza sintomi, ma in una certa percentuale di casi questa situazione di presenza di batteri in ambito urinario produce delle sindrome mediche qualche volta anche molto pericolose, da quelle che noi chiamiamo le pielonefriti con febbre alta, brivido, shock persino in alcuni casi, da un lato e dall'altro lato può dare vita a delle complicazioni a carico dell'apparato urinario come per esempio la formazione di calcoli. Per le donne invece sono abbracciate un po' tutte le fasce di età. Perché la donna, contrariamente all'uomo, ha un apparato urinario meno protetto dall'ambiente esterno e questo a causa della sua costituzione anatomica. Questo fa sì che batteri dell'ambiente appunto, o che possano albergare a livello vaginale, possano per via ascendente dare delle infezioni urinarie. I consigli si possono dare quindi? Quindi è buona norma intanto mantenere una igiene giusta direi, non esagerata, ma comunque attenta. Parlo di igiene intima naturalmente. Oltre a questo le donne hanno un piccolo problema spesso che è quello di assumere poca acqua e quindi noi consigliamo alle donne, soprattutto alle giovani donne o comunque alle donne impegnate in un'attività lavorativa o nella loro attività quotidiana a casa, di assumere una quantità sufficiente di acqua. Questo è già di per sé una difesa per l'apparato urinario.